Il turno è il turno e questa colpa diventa sempre più piacevole per i colori corallini. Noi ci siamo prefissati di vincere tutte le partite, quante più se ne possono vincere ci cerca di fare il massimo proprio perché la truisi è stata costruita per grandi fronte. Non ci siamo prefissati nulla, però è normale che partita dopo partita poi l'appetito viene mangiando. La Nocerina oggi certamente non era il pomigliano, era una squadra molto ambita con 5-6 giocatori di spessore e noi non l'abbiamo né sottovalutata né ci siamo messi in guardia. Abbiamo credo dominato per 90 minuti, loro hanno cercato di difendersi al massimo, abbiamo avuto delle grandi occasioni poi al novantesimo abbiamo subito il gol del 2-1 ma credo che non ci sia mai stata storia quindi proseguiamo per cercare di fare sempre partita dopo partita in crescente. Queste sono cose che riguardano il Presidente, ripeto a me dispiace sentire queste cose. Una persona che ha fatto tanto per Torre del Greco, non ha altre ambizioni, furché a tirare soldi dalla tasca per fare un calcio e per costruire una turris e portarla tra quest'anno ed il prossimo in Lega Pro gli vengono imposte delle situazioni che sono poco piacevoli ma sicuramente credo che si risolverà perché il Presidente ha le qualità e le carte regola per poi accedere alla gestione del campo. Direttore, lo spettacolo delle due tifoserie sugli spalti che rimuovano uno splendido gemellare? Alla Nocerina e la Turris credo che debbano ambiti ad altre categorie, non è una sviolinata e non è una frase fatta oggi l'hanno dimostrato nel massimo della correttezza e nel massimo della tranquillità sia a Nocera che Torre del Greco, anzi auguriamo a Nocera di trovare una società forte come c'era oggi la Turris. Faccio la stessa domanda che ho fatto sia al Ministero Grimaldi che al Presidente il direttore Governucci si impegna per allestire una formazione importante per puntare a vincere il campionato perché i nomi sono quelli là e poi arriva il Bari nel girone. Innanzitutto non abbiamo mai fatto proclami proprio perché ho avuto il piacere di conoscere questa piazza che è come la vostra. Noi non abbiamo mai detto di vincere il campionato, abbiamo una squadra attrezzata e faccio la domanda, faccio e do la risposta al modo inverso. Forse il Bari che deve preoccuparsi di squadre come la Turris. E allora sta dicendo che la Turris vince il campionato? No, cercherà di vincerle quando è più possibile e poi alla fine ti riremo il conto. Invece la pubblicazione dei gironi che impatto ha avuto rispetto a come c'eravamo lasciati la settimana scorsa sono vero di quelle porte sempre aperte al mercato se fosse capitata qualche occasione. Questo mi ha dato una scossa in più, ne avete parlato dopo i gironi. Sicuramente faremo qualche altro colpo in entrata, qualche altro colpo importante e sarà un colpo di spessore proprio per rafforzare questa squadra che a mio avviso è già una squadra importante. Riguardo poi ai gironi sono da una parte diciamo non deluso, però questo è il calcio voglio dire ma non è possibile dare modo a chi viene da un fallimento e poi appoggiarsi ad un lodo e trovarsi nel girone dove squadre poi anche come Marsala, come Messina, come noi, come Gela appunto a fare qualcosa di importante. Sarà uno stimolo in più, uno stimolo in più perché il Bari se ne accorgerà che ci sono squadre meno blasonate di loro però che conoscono questa categoria molto meglio di loro. Direttore, le ultime notizie parlano di un difensore, di cattura d'arrivo. Quanto è vicino alla Tupis? Ma credo che in settimana dovrebbe formalizzarsi questo difensore. Ormai è all'orecchio e agli occhi di tutti quindi sarà quasi in dirittura d'arrivo per rafforzare senza togere alcun calciatore però, rafforzando ancora di più la squadra. Poi è normale che le scelte le fanno il tecnico ma noi andiamo solo a rinforzare. Poi il primo dicembre ci sarà un altro tipo di mercato e si vedrà dove saremo per poi puntellare qualcosa che sia stato o sbagliato o chi non è contento fa le sue scelte sia da una parte che dall'altra. E episodi come quello di oggi che hanno propiziato il gol della Nocerina in campionato potrebbero avere un reso diverso, un'incidenza diversa nella dinamica dell'anno? Ma il gol della Nocerina può dispiacere... Quindi collegandomi alla volontà di un nuovo innesto in direzione? Sì, può dispiacere soltanto perché è al novantesimo e magari giochi con neoscialanza però è squadre come la Nocerina, squadre anche più a battagliere perché a me la Nocerina non è dispiaciuta rapportata a quello che ha fatto in poco tempo quindi faccio complimenti a Mister Viscito e a tutta la società per i sacrifici fatti però è normale che troverai le squadre più attrezzate la Nocerina e non ti perdoneranno quindi bisogna essere attenti e non solo in difesa, in tutti i reparti è normale che si va a parlare della difesa perché è agli occhi di tutti che se prenderemo prenderemo un difensore.